Sette domeniche, due mesi e mezzo dall'ultima vittoria, sette giornate di campionato, un abisso dal 13 novembre al 29 gennaio. Il nuovo affetto torna a vincere, lo fa col cuore, con maggior determinazione rispetto al Poggio Berni. La gara è maschia, ricca di polemiche, animi accesi e non potrebbe essere altrimenti quando ci sono queste due squadre in campo. I tifosi giallobru si fanno sentire sugli spalti e gridano vittoria, che alla fine arriva grazie al decimo cento di stagione di Mattia Stefanelli. Una boccata d'aria per i padori di casa, attesi mercoledì sera nel recupero comunale contro i Colonnella. Poggio Berni che si dimostra una squadra tosta ma troppo fallosa, saranno ben cinque cartellini gialli a fine gara per gli ospiti, che tuttavia rischiano di essere colpiti già all'ottavo quando Mattia Stefanelli viene lanciata in area di rigore, ma al momento del tiro arriva l'intervento di Grossi, da vedere se dentro o fuori l'area di rigore. Il reprei curato da Elisa Drudi sembrerebbe dare chiarezza agli spettatori, lasciamo però libertà di interpretazione. Dalla punizione, Fraboni spedisce la sfera sopra la traversa. La prima sortita offensiva di Marco Ospite giunge due minuti più tardi, quando a calcio è piazzato, e Casadei a non inquadrare il bersaglio. La partita è molto tattica, chiusa e ricca di falli, gioco spezzettato in varie occasioni. I calci da fermo risultano essere dunque l'unica arma per colpire, e Fraboni, dalla stessa mattonella della volta prima, spedisce la sfera sull'esterno della rete. Ma il preludio al gol per i padori di casa, che concretizzano i loro sforzi, raccogliendo fuori dall'area di rigore un pallone che Federico Baldenini mette al centro, eseguendo un tiro cross raccolto da due passi da Mattia Stefanelli. Deviazione vincente sotto misura e gol partita. Nella ripresa, la gara varra di emozioni, con un pallone bloccato sulla linea di porta da Ronci, sempre tra l'altro da calcio piazzato, e con un tiro insidioso sventato solo all'ultimo dall'estremo di casa. Che azioni latitano è alla fine e nuova felta può finalmente tornare al successo, dando una vera boccata d'ossigeno alla propria classifica. Grazie a tutti.